Allora siamo in telecronaca diretta dal campo di bocce di case dove si sta per disputare questo avvenimento tra poco lo caricheremo anche in diretta Facebook Allora andiamo subito a sentire a bordo campo Spigarolo come sta andando? Abbastanza male perché non gioco più Hanno tutti i spruvi? Ti sono ritirato? No, no, ogni tanto E dopo che tu hai smalato il bimba e sono sentito così? E' bello? E' bello? E' bimba e' bimba Andiamo a sentire un po' come la situazione sul campo Vedete il terreno in perfette condizioni di gioco Ora sentiamo questi ragazzi come sta andando No, no, parla con lui che io sono già... Perfetto, Lucio, siamo pronti Sì, stiamo iniziando Comunque siamo fiduciosi perché gli allenamenti sono stati fatti molto ma molto seriamente Ti vediamo con le balle di ferro Abbiamo la parola per la parola Perché qui abbiamo la conduttrice La conduttrice, speriamo Sei che farà il punto? Certo Guai se no Dove sta il ballino? Al centro Dopo bisogna andare vicino al massimo Mi raccomando non tirate con telecamera in campo Mi è già arrivato un ebocce vicino dal pit Allora continuiamo questa diretta Facebook Vediamo anche Marquette Guardate Marquette Marquette e Marquette Guardate il tiro Ecco vediamo il tiro adesso Vediamo il tiro Vai vai, ti pieghi Metti la boccia e lanci Guarda è facilissimo Dopo vedrete anche me Allora vediamo la situazione Marquette Andiamo a sentire un po' come è qua Il tiro Senti come sta andando Zazzini Sentiamo subito Dottore buongiorno Buon pomeriggio Tardo Tutto bene per adesso Siamo ancora a decidere un attimo le formazioni Comunque si prospetta una bellissima giornata Un pomeriggio intenso Allora Marquette Al manchi al manchi al break O forse sta completo Marquette Mai provato Ho già capito Bene allora vedete che il campo è perfetto In condizioni di gioco Pubblico pagante La situazione è perfetta Come potete vedere Non resta che salutarvi Dal bocciodromo di case di Manzano Gettini signore e signori Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio